Mandy, ma che cavolo? Ehi, non ti vuoi suicidare? Ho fatto una terapia genica. Cioè, che significa? Non volevo dirtelo per non darti false speranze, cioè per non darla a me stessa. Terapia genica? Una sperimentazione. Ti ho detto che la mia scheda non è comune? Sì. Beh, ora sono molto comune. Posso andare dove voglio? Quindi tu non sei più malata? È quello che sto cercando di dirti. No. No, non ti credo. Andiamo, andiamo. No, no. Ti ho mai detto una bugia? No. Perché dovrei iniziare adesso? Senti, se non sei malata, perché stai scappando?